Sto parlando di Lucci che ebbe un inizio clamoroso con la primavera della Roma, molte stagioni in Serie A, poi qualche incomprensione ad Udine, tre mesi fuori, tre mesi da disoccupato e poi il riavvio della sua carriera proprio con il Piacenza. Lucci è stato accusato più volte di essere un giocatore un po' lento e anche un po' svogliato in allenamento. Lui è molto maturato con il passare degli anni, ora ne ha 28 e spera di poter far bene in questa nuova possibilità sua in Serie A. Veniamo insieme all'intervista con Settimio Lucci. Ti consideri un giocatore fortunato? Penso di sì perché sono stato tre mesi fermo dopo l'esperienza di Udine senza contratto e sono stato fortunato perché ho trovato una società incredibile, a livello di organizzazione penso che non ha niente a invidiare alle società più grandi. Si parla del campionato italiano come di quello dei grandi professionisti, moltissimi soldi che girano, molte squadre, molte società, grande professionismo anche a livelli inferiori, C1, C2. Come ci si sente in un contesto del genere da disoccupato? All'inizio non riesci bene a capire la situazione perché dopo 7-8 campionati che avevo fatto, solo che poi ti rendi conto che i giocatori sono molti, stranieri che arrivano, è difficile trovare posto in squadra di Serie B e Serie A. Cosa è mancato secondo te a Lucci per sfondare? A un certo punto eri uno dei più promettenti in Italia. Sicuramente mi è mancato un po' di determinazione, pensavo che tutto mi era dovuto e pensavo che era più facile forse. Invece te lo devi conquistare ogni giorno durante la settimana, quello che fai la domenica è lo specchio di tutta la settimana. Io questo probabilmente non l'avevo capito. Cosa è successo realmente a Udine? Ma a Udine c'è un presidente che è un tifoso e forse fa la prima cosa che gli passa per la testa. Poi io penso che non mi avevo visto cambiare tanti giocatori in una società come Udine perché non c'è più nessun giocatore da quando il primo anno che ero lì, che è proprio domenica, era su nette allenatore, non è rimasto più nessuno. Io e Davidis abbiamo pagato le scelte di questo presidente Foucault. Tu adesso ritrovi Sonetti. Cosa ti ricordi lui? Sonetti adesso ho capito molte cose. Come ho detto mi ha servito l'esperienza e ho capito a distanza di tempo che quello che diceva Sonetti era vero. Che un giocatore si deve vedere prima in allenamento durante le settimane. Io in allenamento prima schiacciavo poca voglia di allenarmi e invece aveva ragione lui.